Otto mesi sono stati necessari per effettuare i lavori di bonifica, sbancamento e demolizione dell'ex pastificio mal tagliati di margine coperta nel comune di Massecozzile. La prima ruspa all'interno dello stabilimento era entrata infatti il 19 marzo scorso. Secondo il cronoprogramma, che è la nuova proprietà dell'area, l'azienda che gestisce il marchio della catena Eurospin, i nuovi edifici, la nuova area dove sorgeranno il supermercato, i negozi, uffici e abitazioni saranno ultimati entro il 2022. Sicuramente una storia importantissima del comune di Massecozzile e soprattutto della frazione di margine coperta si è chiusa con l'abbattimento in questi giorni degli edifici che costituivano l'ex pastificio mal tagliati. Dal 2005 l'area è rimasta in una condizione di degrado perché l'azienda per varie vicissitudini chiuse e quindi l'amministrazione comunale ha cercato di trovare le soluzioni per riqualificare l'intera area. Altri spazi pubblici saranno ceduti al comune. Qui saranno realizzati parcheggi, aree verdi, piazze e marciapiedi, tra via Primo Maggio, via Sabatini e via Lighieri. Quest'ultima strada sarà poi unita a via Montale con una nuova carreggiata. Tutti siamo stati presi da sentimenti contrastanti e sicuramente è un'emozione impressionante. Sentimenti contrastanti da una parte per l'amarezza di vedere chiudere una storia ma dall'altra parte la soddisfazione e la felicità di vedere poi l'area completamente riqualificata con volumi completamente diversi, nettamente inferiori rispetto all'esistente che chiaramente darà nuova luce a questa area, a nuovi posti di lavoro. Insomma diciamo che tutto sommato siamo molto molto soddisfatti.